Non ci credo 20 kill Mattè, non ci credo. Il tuo record? 16. De prego lasciamelo a me Mattè. Oh l'ultimo facciamo uno scoop. No, ti prego Mattè. Oh l'ultimo, lo nocchi? No, 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 fammelo, fammi farlo i 20 kill, le altre le trollo. Fammi farlo i 20 kill, te prego, è il mio record. Allora, il penultimo lo uccidete. Ma oh, lo capisci te prego che è il mio record. Facciamo solo un scoop, l'ultimo. Ma li fai te, li fai te Mattè. No, no, scopo. Sì, te stocchiate per favore, te lasciamo lì. Dove stanno? Eccoli. Ti sono sparati? Sì. Fermo. Torni. Sì. Torni. Devo aiutare No 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 me si è girata No me si è girato ma te no please ecco no l'hai fatto di no io manco fatto si è deciso c'è manco lo tocco cioè non ci vedo 22 kill